amici di corse di moto tv siamo qui a misano al world circuit marco simoncelli per quelli che sono gli official test dell'obtiv c'è una novità quest'anno sulla griglia della superbike roberto mercandelli ciao robbie ciao ciao a tutti ancora di rosso sarai vestito però salto 600 next generation mille superbike da ovviamente rosse nero a broncos racing team io credo un passo importante per trovare nuovi stimoli e oggi che il primo giorno con un clima decente è stai cominciando anche ad andare forte si dai dopo tanti anni in super sport avevo bisogno di nuove motivazioni e di provare nuove esperienze e abbiamo deciso di farlo con il team broncos che poi il team campione d'italia quindi sicuramente sono in una condizione ottima per fare bene anche il superbike è tutto nuovo per me sto lavorando in questo primo vero test e devo capire bene la moto per poi cercare di essere pronto per il primo weekend visto che mancano più o meno 15 giorni all'inizio se tu dovessi in percentuale dire a che livello sei a quanto siamo 60 70 per cento del potenziale massimo penso di essere al 60 per cento sia sì con la moto che fisicamente devo ancora capire bene i movimenti da da fare in sella devo anticipare un po un po il tutto ancora mi sta portando in giro lei ha tanta potenza tanti cavalli le gomme sono diverse rispetto all'anno scorso e arrivo con una guida molto da seicentista dopo tutti gli anni che ho fatto e dai sto cercando comunque di andare lì dietro i tempi stanno venendo e quindi sono positivo ecco hai toccato tu l'argomento anche condizione fisica perché noi ti abbiamo lasciato l'anno scorso a Mugello che era per l'ultimo appuntamento dove avresti quel bruttissimo incidente lì alle alla S prima del del traguardo come stai cioè sei lì al massimo ancora anche l'aspetto fisico diciamo che deve essere ottimizzato allora ancora non sono al cento per cento e anzi direi che ancora ce ne vuole e speravo di riuscire a riprendere più in fretta sono passati ormai sette mesi dalla dalla rottura delle vertebre però ci sto lavorando sono un po rigido ancora in sella e questo non è il massimo per per guidare il mille dove devi fare tanto tanto movimento col corpo però dai sono fiducioso e confido di arrivare preparato. Siamo a Misano l'abbiamo detto un circuito guarda ne parlavamo l'altro giorno perché c'è un piloto australiano che ha debutato qui nella 600 che da fuori no agli appassionati magari può sembrare semplice in realtà Misano è uno di quei circuiti un po più tecnici con punti difficoltosi ecco visto la tua grande esperienza sul 600 con questa mille qual è quali sono al momento in segmento i settori o i punti che non dico ti metto più difficoltà però dove capisci che c'è ancora da lavorare allora sì io qui col 600 sono sempre andato molto forte guidare qua dentro il v4r non è semplice e soprattutto la parte dove sto facendo un po più fatica è cercare di fare il pick up cioè nel senso rialzare la moto il prima possibile per poi scaricare i cavalli per terra e sicuramente il curvone non è semplice da affrontare perché devi un po chiudere il gas rispetto al 600 e agganciarlo nel punto giusto e poi comunque anche il pezzo guidato il primo settore non è semplice perché se stai molto piegato non riesci mai a dare gas quindi diciamo che ci vogliono un po di giri per per mettersi a posto c'è da dire che se dovessimo incappare in un inizio stagione bagnato comunque con un clima abbastanza bizzarro questi giorni test che avete trovato la pista umida potrebbero aver aiutato a prendere quanto meno le misure a questa moto con quelle condizioni quindi se dovesse piovere il primo weekend di gara tu come la vedresti allora io ho provato sull'acqua e non sono andato male sono stato abbastanza veloce anche se ti dico che preferisco che ci sia un weekend bello asciutto perché comunque sto iniziando ad essere veloce anche sull'asciutto le condizioni quando piove freddo così non sono mai il massimo per nessuno e spero confido in un weekend soleggiato chiudo dicendo che beh la superbike sia un po rimpolpata quest'anno adesso partendo dal favorito d'eccezione che è sempre chiaramente michele pirro ma con un del bianco in crescita con un bel team yama poi ci sono bernardi e cavalieri con l'aprile abbiamo già visto a un scorso di cosa sono capaci ecco qual è l'obiettivo realistico per te al debutto in questa categoria top five cercare di stare di prendere un podio perché ribadisco tutti dicono la superbike non c'è tanta generazione è vero ma quelli che ci sono e sono 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 belli belli carichi sì allora sicuramente non siamo tantissimi ma i primi sono super veloci e io realisticamente il mio obiettivo è venendo anche come sto andando qui nei test la top five e perché no magari puntare anche a un podio sarebbe già un ottimo obiettivo e però dai per come si stanno mettendo le cose direi che possiamo sicuramente essere competitivi e provare a puntare alla top five l'ultima cosina è contratto con broncos racing team è di un anno per ora avete già esteso l'anno prossimo cioè si parla di un'avventura biennale o quanto o perlomeno fino 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 ad ora vi concentrate su il 2024 allora per adesso non abbiamo accordi futuri abbiamo pensato di iniziare vedere un attimo come andavano le cose anche perché comunque io rientro dall'infortunio da un infortunio importante e sicuramente l'obiettivo è quello non di fare un anno ma di dare un di dare tempo questa questa avventura e poi essere veloci magari dall'anno prossimo e cercare di essere sempre più competitivi bravo merca in bocca al lupo ciao a tutti completiamo 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 la line up di broncos in realtà è bella estesa quest'anno però facciamo un salto del national del virus power national trovi perché quest'anno caro luca vai all'attacco della mille con team broncos no ci riproviamo o quest'anno o lava la spacca perché poi sa sappiamo non si sa poi gli anni prossimo succederà via dicendo mi sa che ho dentro fuori all in a sto giro quindi diciamo che quest'anno ho voluto stare sempre sul mille che la moto che più mi dà soddisfazione e che per i miei 82 kg insomma è quella che spinge di più e si si ancorichi per il national e speriamo sia ormai te lo dico speriamo sia l'anno buono sarà l'anno buono lo vedremo no però si ancorichi non mi sono mai allenato così tanto sono riuscito a trovare un po l'equilibrio tra video cose vado ad allenarmi con i ragazzi della 300 castelletto insomma bello divertente ci si sprona un po stiamo facendo una vr 46 deno artri al nord bello bello pronti ma dico allora i primi due giorni qui lunedì martedì sono stati off c'è il test di cibo oggi mercoledì si è arrivato perché oggi girano i trofei in cui anche il national chiaramente allora grande fortuna è portato il sole c'è una bella giornata quindi puoi assaggiare a fondo le qualità di questa ducati v4 r e vedo ti vedo sorridente ho visti i tempi beh insomma già la mattinata direi che no l'abbia pronta a casa con soddisfazione sì allora diciamo che l'altra volta ero venuto qua con appunto la moto del team 11 e ho provato con delle condizioni molto toste 12 gradi freddo e via dicendo le sinistre sono molto brutte soprattutto con la moto a 200 mila euro sotto il culo oggi ho detto a entro dentro gomma nuova che l'altra volta usato un sc 0 vecchia e via dicendo facili no 36 6 invece vai a scoprire che queste moto sono molto sofisticate cambia una cosina e scendere difficile mi trovo molto meno a mio agio rispetto all'altra volta però comunque come tu dici i tempi sono buoni in realtà lo sapete benissimo il virus paulantial trofi sarà pirelli il cv il dalop cv lo diceva però la stessa sarà dalop perché vedevo che confabulavi con i ruchi mercandelli che è nella vostra nella tua stessa squadra girate con la stessa moto ma in realtà lui è dalop tu pirelli vedevo che riguardavate già i video perché tu sei molto bravo tu scarichi subito vai a vedere ecco quali consigli gli davi se gli stavi dando consigli no allora abbiamo già fatto due test insieme sia valencia che qui e si vede proprio che ha un po il quel qualcosa che gli è rimasto dalla 600 quindi grandissima percorrenza ma poi tarda un po col gas e stava cercando anche lui di capire come fare questo benedetto pick up e sfruttare tutta l'accelerazione che è quello che bisogna fare per andare forte col mille e appunto cercava di studiare un attimino per capire come come fare queste mosse che sono fondamentali per andare forte con le moto grandi insomma sì il pick up di cui parlava merca di cui parla luca è ovviamente radrifare la moto il più velocemente possibile nel momento in cui devi andare a spalancare il gas devi sempre fare il movimento di rialzare la moto e non aprire il gas con moto piccata sennò entrano i controlli è un casino si muove la moto si muove infatti all'inizio giornata mi diceva sono devastato dalla vita dico eh benvenuto benvenuto poi ovviamente quando inizi un attimo a prenderci la mano a raddrizzare a scaricare bene la potenza a terra la moto si diventa più gestibile insomma chiuso il capitolo virus power national trophy che inizierà ad aprile a maggio inizia il virus power ci vuoi cioè l'italiano ve lo sta in salita ci sarai lo sappiamo sarai con il broncos ristin con una moto del bronco se non ho capito male lì però utilizzerai il v4s v4s ma il coppione sotto quella moto una delle moto mi piacciono assolutamente di più e quindi a posto cioè non volevo star lì a cambiare cose vi dicendo con broncos mi trovo benissimo è una famiglia proprio un piacere venire a far le gare insieme e quindi ho detto furgoncino si va v4s benza e via quindi sono contento di iniziare questa avventura anche lì nella salita allora e avversare nella salita è inutile parlarne adesso perché c'è le no le liste di partecipazione sono sempre una cosa oscura che vi è svelata all'ultimo momento però volevo capire da te se volevi mantenere fede a quello che mi dicevi dell'inverno cioè si italiano però qualche puntantino in giro la vorrei andare a fare come corsi su strada assolutamente sì lì è più un problema burocratico perché essendo anche un novizio devo capire un attimino come si chiamano licenze mica licenze nulla osta quindi non è stata fare la licenza poi a quanto ho capito da gesù non so bene chi mi deve arrivare nulla osta per poter andare a fare tipo qualche garetta di irrc che è proprio quello che vorrei provare perché secondo me è la giusta via di mezzo no tra la totale follia del magari man dove magari poi in un futuro via dicendo e l'italiano dove tutto molto più tranquillo chicane insomma è un percorso perfetto di crescita in quell'ambito lì senza dire ha fatto questo fatto quell'altro quindi devo andare subito a fare faccio un esempio il manx lì è una delle poche cose dove dico sto invecchiando comunque a dire queste cose è una di quelle poche cose dove dico bisogna andare veramente per step cioè anche se arrivi lì e dici cavoli sto andando forte però bisogna proprio certificare italiano si va bene ok step successivo diciamo che l'IRRC non stai parlando da vecchio stai parlando a saggio è la 3 d'union corretta per arrivare poi all'isola perché saltare dai due chilometri di percorso italiano ai 60 rotti dell'isola io credo che ma adesso lasciando stare i pericoli non credo che neanche cronologicamente ti potrebbero dato ragione invece andando a prendere quei circuitelli lì di 15 chilometri perché poi comunque l'IRRC insomma non è proprio roba da primo pelo eh dato che poi l'obiettivo è quello di fare tutto il circuito loro che sono 6-7 gare tra cui matra via dicendo quest'anno cercare di assaggiare quelle un po' più complicate che sono orize froburg e e engelo in olanda che sono appunto quelle un po più complicatine che cioè non è che possono chiudere le città per 27 giorni quindi lì di prove ne hai poche devi essere cioè almeno una volta ci devi essere andato quindi prima di fare tutto il campionato bisogna un attimino quest'anno fare qualche wild cardina e capire diciamo che questi tracciati cui hai parlato ti danno la possibilità di assaggiare su strada le altissime velocità cosa che l'italiano non si può proprio per regolamento c'è una media da rispettare praticamente più che altro mi sembra proprio anche un altro sport perché la salita sì uno dice ok è meno pericolosa vai più piano però allo stesso tempo di star più attento perché hai muretto e garrel cioè nel senso ok e quindi deve avere un'impostazione diversa invece froburg quelle altre piste dell'IRRC vai fortissimo 310 all'ora però sono stradoni dove magari cadiva nel campo di pannocchie e la portiamo a casa no? belli piloti hai 300 all'ora cadiva nel campo di pannocchie no però ci pensi un attimino a quella roba lì quindi dici ok devi un attimo gestire e volevo proprio assaggiare un po' tutte le non categorie come si chiama aiutami le specialità nella specialità per dire ok è più il mio questo quest'altro perché poi sappiamo c'è gara di salita europeo dove le velocità sono molto più alte rispetto all'italiano ed è una roba però crono scalate poi abbiamo l'IRRC dove è proprio una gara vera quindi parti con gli altri devo capire dove mi trovo più a mio agio insomma diciamo che poi come tutto c'è l'isola di man dove non c'è più il campo di pannocchie ma c'è l'alta velocità quindi hai 300 all'ora col muretto dell'italiano bellissimo e lì è proprio il il culmine di tutto però come ho sempre detto è un po' complicato perché perché lì devi conoscere a menadito quei 63 chilometri e non solo le curve ma anche i rettellini perché se arrivi lì col mille che sei a 310 all'ora c'è il salto ti trovi a cioè sai come il meme con il ne ne che voli via no quindi è un po' così invece alla fine nell'IRRC sono piste un po' complicate dove devi stare un attimino attento capire com'è l'andazzo 4 chilometri fai due turni è bella lì e invece per andare a fare l'isola di mani bisogna fare come il buon caro icman che si è studiato per un anno gli on board di dallop e successivamente si è fatto 65 giri con la macchina non legge la fusa praticamente e a quel punto è stato il più veloce newcomer della storia però ha solo quello no era flippato su quello quindi bisogna capire un po' queste tutte queste cose 65 giri del monte ne sono 3600 chilometri andate da bologna a parigi quattro volte così no per dare un po' no alle misure per dare un attimo l'idea allora quindi si è riuscito comunque a incastrare sei di national sei di cws e tre dell'IRRC per ora quindi siamo comunque a quota 15 se tutto gira come deve girare sì siamo a quota 15 più una gretta nel mess magari più altre cosettine più il vdv più due gare de mosgp dove andrò a fare dei lavori con dell'orto che qui siamo partner adesso qui siamo partner adesso diciamo che un bel 18 19 weekend all'anno me li faccio fuori quindi siamo a marzo mancano nove mesi a dicembre con 9 per quattro 36 26 15 domeniche libere ecco posso fare un appello che ormai c'è il riscaldamento globale no a marzo a febbraio si gira in moto iniziamo sti campionati a febbraio gli spalmiamo un po' di più no la situazione ci siamo già abbronzati ma lui parla così oggi ieri c'era una 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 bufera sei gradi su asfalto hai ragione anche tu però dai insomma se si mettono le giornate così è tanta roba se no dal 21 aprile al metà ottobre tutto sì perché la mille del nationalista il 21 aprile col cev se poi tutti che si lamentano del si lamentano no ci sono detto cavoli però c'è troppo spazio tra tipo la terza e la quarta io bello come il sole perché salita da una parte ci incastriamo insomma pensa che è andata anche bene perché una tappa del cvs era sul vdv è stata spostata puoi fare sia vdv che spoleto quindi festa grande a casa salvadori festa grande mi sarebbe piaciuto anche fare una tappa di europeo con il buon bottalico che ho visto le gare dell'anno scorso sue è lì però c'è la concomitanza bisogna fare l'italiano si fa l'italiano questo tanto ti farei una north west così vai su con bottalico che stanno passaggiare anche lì la orto mi sono guardato tutte le gare degli anni scorsi pazzesco però mannaggia in bocca al lupo per questa stagione così variegata luca salvadori ci vedremo qui per il national e poi in salita ciao in bocca al lupo crepi grazie ciao ragazzi